Oggi vedremo tre significativi disastri avvenuti sul monte Everest. Il primo sarà il disastro dell'Everest del 96. Uno degli anni più mortali nella storia dell'Everest si è verificato durante una tempesta il 10-11 maggio 96, quando otto scalatori sono morti durante la discesa della cima. Il disastro è stato ampiamente pubblicizzato ed è diventato l'argomento del libro di John Krakauer, Intotinair. I fattori che hanno contribuito alla tragedia includevano cattive condizioni meteorologiche, ritardi nella salita e sovraffollamento. Abbiamo poi la valanga del 2014. Il 18 aprile 2014 una valanga enorme ha colpito la cascata di ghiaccio del Kumbu, uccidendo 16 Sherpa. Questo disastro è diventato il giorno più mortale dell'Everest fino a quel momento. Gli Sherpa stavano trasportando rifornimenti per spedizioni commerciali quando la valanga li ha colpiti. La tragedia ha scatenato discussioni sui rischi affrontati dalle guide Sherpa rispetto agli scalatori che assistono. Infine, il terremoto in Nepal del 2015. Un terremoto devastante ha colpito il Nepal il 25 aprile 2015, innescando una valanga sul monte Everest che ha travolto il campo base nepalese, uccidendo 22 persone. Questo è diventato l'evento più mortale nella storia dell'Everest. Il terremoto e le successive valanghe hanno bloccato centinaia di scalatori, portando a un'operazione di salvataggio su larga scala. Questi incidenti riflettono i rischi estremi dell'Everest, dai disastri naturali alle sfide umane della rampicata ad alta quota. Il disastro dell'Everest del 96 è noto come uno degli incidenti più mortali nella storia del monte Everest. Durante una tempesta improvvisa e violenta il 10 e 11 maggio del 96, otto scalatori hanno tragicamente perso la vita durante la discesa della vetta. Questi scalatori facevano parte di diverse spedizioni, che tentavano tutte di raggiungere la vetta, ma hanno incontrato condizioni mortali durante la discesa. Diversi fattori hanno contribuito al disastro. Innanzitutto, il meteo è cambiato rapidamente, portando forti venti e bufere di neve che hanno ridotto drasticamente la visibilità. In secondo luogo, ci sono stati ritardi insignificativi nella salita, in parte dovuti al sovraffollamento nei punti chiave lungo il percorso. Con così tanti scalatori che tentavano la vetta contemporaneamente, molti sono stati costretti ad aspettare in condizioni difficili, il che ha portato a sfinimento ed esposizione al freddo. Inoltre, interruzioni della comunicazione ed errori critici nel processo decisionale hanno avuto un ruolo nella tragedia. Il disastro ha ricevuto ampia attenzione dai media, soprattutto dopo che John Krakauer, che faceva parte di una delle spedizioni, ha scritto In Totten Air, un libro di successo che ha fornito un resoconto di prima mano sulla catastrofe, ed esplorato i fattori che hanno contribuito al tragico esito. La valanga dell'Everest del 2014 si è verificata il 18 aprile 2014, quando una valanga enorme ha colpito la cascata di ghiaccio del Kumbu, una sezione notoriamente pericolosa vicino al campo base dell'Everest. La valanga ha tragicamente ucciso 16 guida Sherpa nepalesi, che stavano lavorando per preparare percorso e trasportare rifornimenti per le prossime spedizioni commerciali. Questi Sherpa stavano stendendo corde, scale e trasportando attrezzature verso i campi più alti, per garantire un passaggio sicuro agli scalatori stranieri. Questo incidente divenne il giorno più mortale sul monte Everest dall'epoca, e mise in luce i rischi significativi affrontati dagli Sherpa, che sopportano la maggior parte degli oneri fisici e logistici nelle spedizioni ad alta quota. Gli Sherpa affrontano regolarmente pericoli maggiori rispetto agli scalatori che assistono, non solo perché effettuano viaggi attraverso aree pericolose, ma anche perché lavorano in condizioni in cui i valanghe, crepacci e improvvisi cambiamenti meteorologici sono comuni. La tragedia ha scatenato importanti discussioni sui pericoli dell'arampicata commerciale sull'Everest, sul tributo fisico per le guide Sherpa e sulla necessità di una migliore compensazione e supporto per la comunità Sherpa, dato il ruolo fondamentale che svolgono in queste spedizioni. Il 25 aprile 2015, un potente terremoto di magnitudo 7,8 ha copito il Nepal, causando una devastazione diffusa in tutto il paese. Questo terremoto ha innescato una valanga sul monte Everest, che ha travolto il campo base nepalese a circa 5.000 metri, uccidendo tragicamente 22 persone e rendendo l'evento singolo più mortale nella storia dell'Everest. La valanga è stata improvvisa e massiccia, innescata dalle violente scosse del terreno. Neve, ghiaccio e rocce sono scesi rapidamente, cancellando parti del campo base dove si erano radunati scalatori e squadre di supporto, che si preparavano per le loro spedizioni. L'impatto è stato così violento che arrasa al suolo tende, attrezzature e intere sezioni del campo, cogliendo molti di sorpresa. Il disastro ha bloccato centinaia di scalatori più in alto sulla montagna, che non sono stati in grado di scendere a causa del percorso di arampicata danneggiati, in particolare nella già pericolosa cascata di ghiaccio del Kumbu. Ciò ha portato a un significativo sforzo di soccorso internazionale, con elicotteri che hanno effettuato più viaggi in condizioni estreme per portare in salvo scalatori e scerpa. Il terremoto e la valanga hanno evidenziato l'imprevedibilità della snatura dell'Everest e hanno portato a rivalutare i protocolli di arampicata e le misure di sicurezza in questa regione sismicamente attiva. Anche il campo base ha ricevuto un nuovo riposizionamento negli anni successivi. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace e ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace e ci vediamo al prossimo video.